Problemi con la DSL? Liberati dalla linea fissa. Il 35 per cento delle famiglie italiane ha già abbandonato la linea fissa. Il 60 per cento dei nostri clienti non la utilizza. Da oggi, con il modem da esterno Linkem, la tua connessione internet è ancora più affidabile e performante, anche nelle aree dove gli altri operatori non sono disponibili. Linkem supera il digital divide. Richiedere il modem da esterno è semplice. Un nostro incaricato ti contatterà per prendere un appuntamento comodamente a casa tua. Un installatore specializzato Linkem procederà al montaggio, alla configurazione del modem e all'inserimento dei dati anagrafici per l'attivazione del servizio. Ti basterà inserire username e password per iniziare a navigare. Terminata l'attivazione con un access point, puoi navigare in wifi con tutti i dispositivi che vuoi e con Linkem puoi avere il massimo dal tuo servizio televisivo on demand. Con Linkem hai internet veloce, senza limiti di tempo e di traffico e senza necessità di attivare una linea telefonica. E con i profili prepagati ti liberi anche della bolletta. Lo attivi in poco tempo. Unisciti anche tu alla Internet Revolution. Il 70% dei nostri clienti ha già raccomandato il servizio. Per maggiori informazioni contatta il numero 06 94 444.